Tra il 21 gennaio e il 3 febbraio del 2021 sono ricorsi i due anniversari più significativi per la storia del Partito Comunista Italiano. Il centenario della sua nascita nel 1921 e il trentesimo del suo scioglimento nel 1991. Può forse sorprendere il rilievo mediatico che ha accompagnato queste due ricorrenze. Dato che quella che una volta si definiva la questione comunista ha cessato da tempo di avere un qualsiasi significato concreto per il sistema politico italiano. Persino nella forma dell'anticomunismo di ritorno un po' paradossale che aveva accompagnato l'ascesa di Berlusconi come protagonista della scena pubblica italiana nel 1994. Non solo, è l'intero scenario che è cambiato e non un solo partito di quelli che per comodità potremmo definire della prima repubblica oggi ancora sopravvive. Eppure non c'è quotidiano che non si sia occupato di questi anniversari, non c'è rete televisiva che non ne abbia fatto oggetto di un talk show. Soprattutto nella condizione particolare imposta dalla pandemia si sono moltiplicati i convegni e i dibattiti nel cosiddetto webinar. E in questa breve chiacchierata che si avvale proprio di questo mezzo vorrei cercare, tracciando un bilancio dei 70 anni della storia del PC, di spiegare alcune delle ragioni che hanno fatto sì che esso abbia lasciato un segno tanto profondo nella storia italiana. Il Partito Comunista d'Italia, come all'origine si denominò, fu un partito concepito per guidare la rivoluzione che nacque e si trovò a muovere i primi passi in una situazione che rivoluzionaria non era più. Anzi, era il contrario della situazione rivoluzionaria, era una situazione di reazione. Questa caratteristica accomunava il PC agli altri partiti dell'Europa occidentale centrale, ma risultava rafforzata dal fatto che esso si trovava a fronteggiare per primo una forma di reazione inedita, il fascismo. Costretto fin dalla sua nascita a fare i conti con il fascismo, il PC, lo chiamerò così per semplicità, anche se questa sigla diviene ufficiale solo dopo il 44, riceve una specie di imprinting antifascista che conterà a lungo nella sua storia. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che anche se critico radicale della democrazia parlamentare borghese, risoluto ad abbatterla, fautore della dittatura, del proletariato, ben presto il PC è indotto quasi il suo malgrado a considerare la lotta per la riconquista della democrazia in un modo diverso dai partiti che allora si chiamavano fratelli, che si davano ancora come obiettivo di abbatterla. Anche il suo rapporto con le altre forze politiche antifasciste ne risultava profondamente condizionato, nel senso che dopo il 1925, per sapoco, proprio la scomparsa di ogni spazio di democrazia forniva al PC, direi di nuovo quasi suo malgrado, una legittimazione che prima non aveva. ne faceva cioè non il partito antisistema per eccellenza, come allora era dovunque visto un partito comunista, ma ne faceva una tra le forze d'opposizione a una dittatura e anzi la più decisa e la più militante. Il fatto di essere un partito rivoluzionario, dichiaratamente rivoluzionario, cessava di per sé di essere un disvalore, perché la presa di coscienza che solo una rivoluzione poteva rovesciare il fascismo, diventò presto comune alle componenti più vitali dello schieramento d'opposizione, a cominciare per esempio dai gruppi liberal-democratici di giustizia e libertà. Così il Partito Comunista Italiano acquisiva una legittimazione democratica che altri partiti comunisti non avevano o che si sarebbero conquistati solo più tardi. Nello stesso tempo, la convinzione di essere un reparto, di un esercito internazionale in un certo senso e la fiducia nella vittoria del socialismo su scala planetaria costituivano, per una forza piccola, perseguitata, clandestina, come ben presto il PC si ridusse a essere, un fattore fortissimo di identità e, per così dire, di rassicurazione psicologica. Nel senso, abbiamo perso una battaglia, ma vinceremo la guerra. Si spiega così anche la profondità e la durata di quello che più tardi i togliatti definirà il legame di ferro con l'Unione Sovietica. Un legame reso più vincolante dal fatto che per vent'anni almeno la sopravvivenza stessa del Partito Comunista Italiano dipende in buona parte, in termini logistici e finanziari, dall'internazionale comunista. In una situazione così difficile si forgiò nel PC un gruppo dirigente di statura superiore alla media dei gruppi dirigenti comunisti degli altri paesi, con una presenza insolitamente forte di intellettuali. Questo gruppo dirigente, soprattutto dopo il 1926-27, accetta con convinzione il suo ruolo di piccola rotella nell'ingranaggio del Partito Mondiale della Rivoluzione, come si diceva, che ha il suo centro propulsore nell'Unione Sovietica e il suo modello di riferimento organizzativo e politico nel Partito Bolshevico-Russo e realisticamente prende atto dei suoi spazi molto ristretti di autonomia. Il prezzo che paga è alto. Di fatto si riducono drasticamente la democrazia e il dibattito interno fino all'ora presenti nel Partito e risulta soffocata e impoverita dal nuovo orientamento la capacità di analisi politica della stessa situazione italiana. Non senza qualche resistenza e riserva mentale, il PC si adegua però totalmente con la sua linea a quella dell'internazionale, adattandola alle brusche svolte di quest'ultima che lo rende prigioniero di scelte a volte aberranti, apparentemente incomprensibili, come quella del 1929 che stabilisce un'equazione tra socialdemocrazia e fascismo persino in una situazione come quella italiana dove era l'equivalente di stabilire un'equazione tra vittima e carnefice, diciamo, o dieci anni più tardi la giustificazione senza riserve del patto tedesco-sovietico, del patto Ribbentrop-Molotov e l'equiparazione degli schieramenti che si fronteggiavano in una guerra considerata imperialista con la stessa etichetta appunto di imperialista. È sorprendente che malgrado tutto questo il PC sia riuscito a non smarrire completamente i propri collegamenti con il paese e a mantenere viva una trama di opposizione al regime. Lo dicono i numeri. Dei 4.596 condannati dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato tra il 1926 e il 1943, tre quarti, forse anche di più, sono comunisti. Ciò significa che il Partito Comunista Italiano nato inizialmente come combattiva ma relativamente ristretta minoranza da una scissione del Partito Socialista grazie alle sue capacità organizzative e alla dedizione dei suoi militanti riesce in una situazione di sconfitta generale ad opporre un'argine di una certa consistenza alla rotta che aveva travolto le forze del movimento operaio. E questo gli permette fin dal 24-26 di calamitare intorno a sé una parte certamente minoritaria però rappresentativa di altre forze antifasciste massimalisti socialisti, anarcosindacalisti, anche repubblicani e persino popolari cattolici di sinistra come con la figura prestigiosa di Guido Miglioli. E questa è stata una delle premesse della sua inaspettata forza all'indomani della caduta del fascismo. Una forza che sarà naturalmente accresciuta, amplificata dal prestigio riflesso dell'Unione Sovietica e delle sue vittorie contro il nazismo. Identificato da sempre dal fascismo come il principale nemico, alla caduta di Mussolini il PC finisce per beneficiare del rancore che si era accumulato contro il regime da parte di un numero crescente di italiani specialmente negli anni della guerra. Inoltre, quando gli ex-alleati tedeschi si insediano come occupanti in una metà del paese, sono i comunisti a proporsi come i quadri più decisi ed efficienti nella lotta partigiana e a organizzare la iniziale spontaneità di questa. Tra l'autunno del 1943 e l'inverno del 1945 saranno oltre 50.000 i partigiani inquadrati in montagna nelle brigate Garibaldi di ispirazione comunista. Ed i militanti del PC è costituita anche l'ossatura delle formazioni cittadine, i GAP e le SAP che operano appunto nelle grandi città. E i quadri comunisti sono anche, non va dimenticato, la forza trainante nell'organizzazione della protesta economica e sociale che si manifesta con ripetute ondate di scioperi operai che costituisce il tratto distintivo forse più forte della resistenza italiana nel contesto europeo. Questi risultati sono resi possibili da due scelte politiche lungimiranti. Una è quella che Togliatti impone al suo ritorno in Italia nel marzo del 1944, cioè quella di privilegiare rispetto alla disputa sulla questione monarchia-repubblica, la questione istituzionale, l'unità nazionale nella conduzione della lotta contro i tedeschi e i loro alleati fascisti della Repubblica Sociale. Una scelta che ha l'effetto di legittimare il Partito Comunista Italiano come forza di governo e come elemento costitutivo e fondativo di una democrazia rinascente. L'altra scelta è quella più interna ma non meno importante di aprire il partito all'adesione più ampia possibile di militanti basandola solo sull'accettazione del programma politico indipendentemente come si leggeva dalla fede religiosa o dalle convinzioni filosofiche. Così nel giro di un anno il Partito Comunista si trasforma in una grande organizzazione di massa radicata in modo diffuso anche se diseguale in tutto il territorio nazionale. Alla base di questa impressionante espansione c'è indubbiamente il fatto di impiantarsi nel terreno già arato dal fascismo il quale aveva cercato di occupare e vi era anche riuscite di organizzare tutti gli spazi della comunità nazionale. Ma c'è anche un altro fattore direi endogeno importante specifico della situazione italiana la debolezza storica del riformismo sia democratico borghese sia socialista. Sicuramente una delle grandi intuizioni di Togliatti sta nel rendersi conto di questo e anche in considerazione dell'impossibilità di seguire una via rivoluzionaria data la collocazione internazionale dell'Italia nel decidere di occupare il vuoto o il parziale vuoto lasciato da questa debolezza. È in questo modo che il PC si candida ad esercitare un ruolo insostituibile nella costruzione dell'Italia democratica e vi riesce grazie anche alla capacità di farsi interprete dell'antifascismo non solo come barriera contro ogni possibile ritorno reazionario ma come programma un programma incentrato su riforme economiche e sociali ispirate a una concezione allargata della cittadinanza. In questo senso l'impegno profuso dei comunisti nei lavori dell'assemblea costituente e lo sforzo tenace di definire un progetto di Stato elaborato unitariamente con le forze che avevano fatto parte dello schieramento antifascista si rivelano due scelte di importanza fondamentale l'unità nazionale raggiunta tra il 44 e il 46 non sopravvive però a lungo ai venti della guerra fredda che cominciano a spirare e i comunisti insieme con i socialisti sono estromessi dal governo già nella primavera del 1946 nella nuova situazione internazionale il PC fa sì una scelta di campo che probabilmente non può in nessun modo evitare se non rinunciando alla sua stessa identità di partito comunista ma sceglie anche di arroccarsi su un terreno decisivo e di presidiarlo il terreno è quello della Costituzione Repubblicana che ha contribuito a creare per molti anni il problema della difesa e dell'attuazione della Costituzione si pone al centro della lotta politica italiana e anche le lotte sociali guidate dai comunisti hanno come principale punto di riferimento le norme programmatiche della Costituzione si rovescia così la concezione tradizionale dello Stato italiano che voleva necessariamente collegate con la sovversione le aspirazioni dei ceti subalterni e ne deriva per il PC una legittimazione democratica più forte delle velleità che pure non mancano di escluderlo dalla legalità in virtù di questo rovesciamento il partito comunista svolge una funzione di educazione civile e di nazionalizzazione che riprende su scala molto più ampia quella che era stata propria del partito socialista dalla fine del secolo diciannovesimo alla prima guerra mondiale contribuisce di fatto in modo decisivo a difendere e assicurare lo sviluppo della democrazia parlamentare in Italia che almeno dal 48 in poi è minacciata molto più da destra che da sinistra come dimostrano per esempio gli episodi di Gladio e l'organizzazione Stay Behind in forza di questo i suoi militanti sono educati a loro volta educano a un costume democratico che rappresenta un grande fenomeno di crescita civile che trasformano milioni di sudditi o di ribelli per altro aspetto in cittadini questo ruolo è reso possibile anche dalla natura del partito che come si è visto si dà dalla fine del 44 una struttura di massa aperta verso l'esterno non è un caso non è il caso scusate di dimenticare i vincoli molto stretti a cui il centralismo democratico come veniva detto sottopone il dibattito interno anche nel partito nuovo voluto da togliarti tuttavia il PC resta nel complesso un organismo vivo e vitale perché riesce non solo a svolgere la funzione di ammortizzatore di un processo di modernizzazione straordinariamente rapido e dai costi sociali particolarmente elevati come quello italiano tra la metà degli anni 50 e la metà degli anni 60 ma anche perché riesce a captare a lungo con efficacia con una certa efficacia come dimostra il suo seguito elettorale le domande di rinnovamento espresse da una società in profonda trasformazione è vero che fatica a prendere coscienza dei cambiamenti radicali che investono nel paese tra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 60 e che la lettura di questi cambiamenti è ostacolata dal persistere di una serie di schematismi ideologici ma questo non ha poi impedito al PC di essere prima il principale interlocutore sia pure in maniera spesso conflittuale poi il primo beneficiario di un movimento di lotte sociali studentesche e operaie che esplode a cavallo tra anni 60 e anni 70 che per ampiezza e intensità ha pochi riscontri nei paesi avanzati questo lentamente modifica anche la sua struttura fa penetrare elementi di maggiore democrazia anche nella sua organizzazione pesa però e questo è un punto importante come un'ipoteca negativa su questo innegabile processo di legittimazione quel legame di ferro con l'Unione Sovietica e con gli stati socialisti non si tratta solo dell'allineamento sostanzialmente acritico a tutte le scelte del campo socialista in politica internazionale a cominciare dalla posizione assunta in occasione della repressione sovietica della rivolta popolare in Ungheria nel 56 per continuare con l'edificazione del muro di Berlino nel 61 o per altro verso con la crisi dei missili a Cuba nel 62 il problema sta nella riaffermazione costantemente ribadita della superiorità del sistema socialista su quello tra virgolette democratico borghese così il richiamo alla necessità di una intesa fra i partiti che più coerentemente si battono per una effettiva trasformazione sociale in Italia rivolto prima di tutto ai socialisti ma esteso anche alle correnti riformatrici della DC e dei partiti laici minori finisce per essere subordinato a una prioritaria scelta di civiltà su scala internazionale che lo rende difficile da recepire e quindi sostanzialmente inoperante non c'è dubbio che questa ipoteca e l'insufficiente decisione nel rimuoverla si è fatta sentire negli anni cruciali 70 e che sono quelli in cui per molti aspetti si è giocata la scommessa del PC di arrivare per via democratica al governo naturalmente si sono fatti sentire anche molti altri fattori e qui vorrei porne in evidenza in modo un po' provocatorio uno in particolare la convenzione ad escludendum che ha tenuto il PC fuori dal governo per un quarantennio è stata per lo più spiegata con il vincolo esterno che avrebbe legato il partito al campo sbagliato della guerra fredda ma mi chiedo non ci sono forse stati anche vincoli di altro tipo e non parlo solo dell'altro aspetto del vincolo esterno cui è stato soggetto il sistema politico italiano per la sua collocazione dentro l'area di influenza americana e per di più in una posizione strategica vincolo che senza arrivare a parlare di una sovranità limitata non è stato comunque privo di effetti nella vita democratica del paese non si tratta solo di questo siamo sicuri mi chiedo che l'unica ragione che ha spinto le classi dirigenti italiane a relegare il PC nell'isolamento sia stata la sua appartenenza al movimento comunista internazionale non si è rivelata in questa scelta anche una storica vocazione delle classi dirigenti italiane a una gestione asfittica delle risorse della democrazia politica non è stato quello dell'appartenenza del PC a un campo a un altro campo un alibi per evitare determinate scelte di riforma sono interrogativi sui quali non si è forse riflettuto abbastanza perché su tutto ha fatto premio alla fine il tornante del 1989 91 con la caduta del muro di Berlino l'implosione dei sistemi socialisti in Europa e la dissoluzione finale della stessa Unione Sovietica un tornante nel quale si è consumata anche la scelta dell'autoscioglimento e della rifondazione del PC questo epilogo però aveva le sue radici anche in altri processi di portata altrettanto epocale insieme alle ripercussioni della crisi sempre più evidente del mondo comunista con cui non aveva rescisso l'abbiamo visto il suo legame insieme all'enorme impatto psicologico del crollo di un universo simbolico che per una parte cospicua dei suoi militanti aveva segnato un'intera vita il PC si era trovato a scontare anche gli effetti dei primi segnali di crisi della socialdemocrazia di quella socialdemocrazia di cui per molti versi esso rappresentava la versione italiana una socialdemocrazia che già dalla metà degli anni settanti in Europa aveva visto cominciare la progressiva lenta ma irreversibile erosione delle proprie basi sociali politiche e culturali prigioniero negli ultimi anni della sua storia dell'illusione di poter indicare una terza via tra socialdemocrazia e comunismo il PC fu in realtà schiacciato dalla crisi di entrambi l'affermazione spesso rivendicata della propria specificità e diversità ha lasciato però e qui mi avvio a concludere la sua impronta nel modo in cui il comunismo italiano ha fatto fronte alla crisi finale del comunismo mondiale con la proclamata ambizione di essere il motore di un processo di rinnovamento che investisse l'intera sinistra italiana è una scelta che ha comportato il prezzo di una scissione vissuta in modo certo doloroso dai suoi militanti e tuttavia nel giro di poco tempo questa scelta ha permesso a una forza che ancora si richiamava all'eredità del PC e ne esprimeve in larga misura la continuità nello stesso gruppo dirigente di rioccupare una posizione centrale nella vita politica italiana e dopo soli cinque anni di vederla tornare dopo quasi mezzo secolo al governo del paese non è anche facendo un confronto con il quadro europeo un risultato di poco conto ma il percorso della trasformazione e riconversione delle forze che hanno raccolto il testimone del PC è stato reso irto e accidentato non solo dalle loro contraddizioni e diciamolo pure dallo scadimento della loro classe dirigente ma anche e soprattutto dalla profonda crisi istituzionale politica e morale della democrazia repubblicana di cui il PC stesso era stato un elemento fondante e costitutivo e quale sia stato il punto di approdo di questa crisi anzi persino se vi sia stato ancora oggi è molto difficile dire di questo di questo di questo che è molto importante Grazie a tutti.